e c'è anche il vicepresidente della camera Luigi Di Maio, grazie di essere con noi buongiorno a voi, buongiorno e grazie all'inghito ecco che lei è andato davanti alla Kflex siccome abbiamo sentito un rappresentante dei lavoratori che diceva bisognerebbe fare una legge e l'ha detto anche lei che renda illegale finanziare con soldi pubblici aziende che poi portino i soldi e il lavoro all'estero e allora io le faccio la domanda, ma perché finora non è stato fatto? Beh, finora non è stato fatto perché questa è l'Unione Europea il vero dramma è che non solo ci sono aziende in Italia che prendono soldi pubblici e poi vanno all'estero ma ci sono aziende in Italia che prendono soldi pubblici per andare all'estero il caso della Kflex sembra addirittura per ammissione degli stessi vertici aziendali questa azienda ha preso 12 milioni di euro e una parte di quei soldi li ha usati per ampliare uno stabilimento in Polonia ora la Polonia è all'interno dell'Unione Europea e questo fa sì che per una norma dell'Unione Europea che si chiama diritto di stabilimento queste aziende possano andare altrove, sempre nell'Unione Europea con i quattrini degli italiani ma questa non è l'Unione Europea che noi vogliamo, è un'Unione Europea che ci sta impoverendo e voglio dire quando è stata concepita l'Unione Europea è stata concepita come un'entità sovranazionale che ci metteva in condizioni di parità come paesi ma se il costo del lavoro è la metà in Polonia e i diritti dei lavoratori sono un terzo di quelli italiani è logico che non siamo in condizioni di parità e per quanto mi riguarda dobbiamo fare una norma che impedisca alle aziende di andare all'estero quando prendono soldi pubblici anche all'interno dell'Unione Europea e non me ne frega niente se la Commissione Europea storce il naso un modo lo dobbiamo trovare per fermare questa emorragia altrimenti abbiamo aperto la Polonia, apriremo ad altri paesi dell'est man mano che apriamo i paesi dell'est sempre più aziende nostre se ne andranno lì e magari molti di quelli in cerca di lavoro lì verranno qui ancora a creare altra domanda di lavoro come se non bastasse quella che abbiamo in parte a me sembra veramente follia che si diano soldi pubblici per poi portare il lavoro altrove è veramente una cosa lei tenga presente che quando noi siamo arrivati in Parlamento come Movimento 5 Stelle nel 2013 abbiamo già fatto approvare una legge che oggi è legge dello Stato che dice se tu sei un'azienda italiana che prende soldi dello Stato e va in un paese fuori dall'Unione Europea o restituisci i soldi o non te ne puoi andare e questa legge è in vigore oggi però riguarda Turchia, Venezuela, Argentina insomma le mete delle delocalizzazioni principali italiane fuori dall'Unione Europea adesso noi dobbiamo fermare questa follia che c'è all'interno dell'Unione Europea perché altrimenti noi nel giro dei prossimi dieci anni diventeremo un deserto industriale e lo avremo finanziato noi questo esodo di aziende italiane verso altri paesi esteri quindi questa è una delle tante follie che abbiamo creato con questa Unione che è sempre meno politica e sempre più di convenienza Di Maio, chiaramente la sua presenza davanti agli stabilimenti appunto che questa multinazionale vorrebbe chiudere e la sua presa di posizione dimostrano che quel gap che viene spesso imputato al Movimento 5 Stelle di non essere poi capaci di fare le cose viene colmato dice beh se quelli capaci comunque hanno prodotto questa roba cerchiamo di fare qualcosa di differente insomma in qualche modo è la manifestazione di un Movimento 5 Stelle forza di governo le faccio questa domanda Di Maio io sicuramente le dico questo ieri sono andato lì prima di tutto per riaccendere i riflettori su un gruppo di lavoratori che da 40 giorni ormai è lì assediato a sorvegliare che non si portino via i macchinari e questo è un motivo l'altro era legato al fatto che ci fossero le ore che la prefettura sta per disporre uno sgombero dei lavoratori e quindi stamattina ho anche scritto un'ingiustizia che si su un contatto dei i macchinari si riportano all'estero per quanto riguarda invece la questione quella di interessi economici particolari di una parte di prenditori perché ci sono gli imprenditori che sono quelli che pagano le tasse in Italia lavorano e pagano prima i dipendenti e poi se stessi e sono la maggioranza delle piccole e medie imprese italiane e poi ci sono i prenditori quelli che prendono soldi dallo Stato si ingrassano quando l'Ostato è stata l'ispirazione di molti e lo si occupano adesso vogliono aggredire l'est Europa perché lì il costo del lavoro è la metà i diritti sindacali sono pochissimi e quindi ma non abbassando i salari o abbassando i diritti dei dipendenti dobbiamo essere competitivi a livello internazionale abbassando la tassazione sulle imprese come la abbassiamo? combattendo la corruzione ci costa 15 miliardi di euro all'anno almeno prendiamo quei soldi ogni anno da una seria lotta di fronte ai lavoratori e dice a me non me ne frega niente me ne voglio andare in Polonia dopo che ho preso i lavoratori a fare un appello di unità alle forze politiche perché lì fuori a quell'azienda io ho trovato un'unità di tutte le sigle che rappresentavano i lavoratori una serietà non hanno mai ceduto alle provocazioni in 40 giorni hanno portato avanti una protesta pacifica e noi dobbiamo in questo momento dicembre non credo che si debba arrivare allo scontro perché credo che il fatto che siano soldi del Ministero dello Sviluppo Economico e quindi italiani possano vincolare un'azienda sul suolo italiano ma altrimenti visto che abbiamo notato anche una certa sensibilità dal sottosegretario dal viceministro di governo che si occupa di questo tema andiamo ai tavoli europei e facciamo la voce grossa e cambiamo queste norme perché come dicevano i lavoratori della Keyflex ieri il loro caso deve ispirare delle regole certe che evitino che si ripetano questi casi anche in futuro intanto arrivano altre segnalazioni guardi le leggo questo Almaviva dopo aver licenziato 1666 per investire in Brasile con i soldi pubblici ha già aperto tre sedi in Romania ecco per dire che lo fanno pure gli italiani ecco questo giochetto sì ma attualmente io assisto continuamente a casi del genere molti la chiamano internazionalizzazione ma in realtà è un modo elegante a volte non sempre a volte per creare delocalizzazione cioè noi siamo la patria del Made in Italy in tutto il mondo anche i nuovi ricchi dell'est cinesi indiani guardano al Made in Italy come un frutto proibito a cui ambire perché è prodotto anche in quantità piccole rispetto alla domanda che può avere a livello nazionale eppure noi invece di permettere alle nostre aziende di esportare all'estero esportiamo le nostre aziende e le portiamo via a volte con i soldi dello Stato ma questo è da imputare anche a come si sono fatte le leggi italiane in questi anni e le dobbiamo cambiare se il caso della Kflex può servire a mettere finalmente una parola fine a questa pessima usanza italiana ma anche di altri paesi allora facciamolo e facciamolo il prima possibile io questo posso dirvi il caso di Almaviva poi è ancora più paradossale perché pensate che in Italia c'è una norma quando ci chiama un call center per una norma che c'è nelle leggi dello Stato noi dovremmo avere la possibilità di scegliere se il call center questa norma non è mai stata attuata cioè è nelle leggi dello Stato ma non è attuata e questo ha permesso alla maggior parte dei call center di andarsene via in India in Serbia in Montenegro in Albania ma se noi avessimo attuato quella norma quanti italiani chiamando il call center sceglierebbero di parlare con un call center straniero sceglierebbero tutti di parlare con un call center italiano e quindi la domanda del call center italiano ovvero anche di maggiore qualità può essere ancora attuale ma queste norme non sono state attuate sempre perché in questo meccanismo del business la facevano da padroni Vodafone Telecom che hanno sempre avuto interessi a fare solo profitto massacrando i lavoratori nel salutarla e ringraziarla perché è sempre molto disponibile se ci sarà un governo 5 stelle comunque proprio per prendere spunto da quello che ha detto proprio a inizio collegamento verranno riviste queste norme io spero anche le dico la verità per gli operai della Keyflex spero anche prima di un governo 5 stelle perché qua il PD non vuole andare a votare prima di febbraio 2018 perché devono ambire a questa pensione di settembre che gli faremo saltare spero tra questa settimana e la settimana prossima ma il nostro impegno comunque anche da forza di governo è quella di attuare una norma del genere e rivedere i rapporti con l'Unione Europea mi sembra di capire sì dobbiamo cambiare la disciplina del diritto di stabilimento che è un'ipocrisia totale che provocherà nei prossimi dieci anni un esodo quasi totale delle imprese italiane Presidente Di Maio grazie buona giornata buon lavoro grazie a lei arrivederci grazie